Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha cercato di placare le preoccupazioni sulla centrale nucleare di Fukushima recandosi personalmente sul posto. Rafael Grossi ha annunciato l'approvazione dei piani giapponesi per lo sversamento in mare delle acque utilizzate per raffreddare i reattori danneggiati dallo tsunami del 2011. Secondo l'esperto, a distanza di 12 anni dal disastro, ora l'impianto può operare in sicurezza. Per le ultime 5 ore ho stato visitato diversi paesi, diversi locali e ho potuto guardare più vicino alle facility che sono in preparazione in caso di che sia una decisione di cominciare con le discharghe controlli e ho stato satisfitto con quello che ho visto. Grossi ha cercato di tranquillizzare anche i rappresentanti di pescatori e agricoltori preoccupati per possibili danni d'immagine a danno dei loro prodotti, ma anche alcuni paesi vicini si oppongono allo sversamento, come nel caso della Cina. Il governo della Corea del Sud, pur affermando di rispettare la valutazione dell'IAEA, non è riuscito a rassicurare del tutto i suoi cittadini. Secondo gli attivisti, scesi in piazza a Seul, l'agenzia non avrebbe preso in considerazione alternative allo sversamento in mare.